oh siete arrivati oggi è il compleanno di masha vogliamo farle una bella festa sorpresa sono arrivato orso sono arrivato orso ho portato dei biscottini per masha bene bene sono contento che sei arrivato nessuno scondiamo i biscottini vuoi nasconderti anche tu ma va bene ma chi altro deve arrivare oh li verranno anche altri invitati allora adesso mettiamo i biscotti qua dietro la poltrona sì sì nascondili bene nascondili bene masha non dovrà mai trovarli oh arriva qualcun altro ecco kitty ciao orso sono arrivata io ho portato la marmellata di amareno che piace tanto a masha che dici ho fatto bene ma sì hai fatto benissimo come sono emozionato come sono emozionato anche io sono emozionata penso proprio che le faremo una grande sorpresa ma ne sono sicuro non sospetterà di niente adesso dobbiamo nascondere la marmellata dietro la poltrona e vai a nasconderti anche tu eh non so quando arriverà masha o conoscendola può arrivare da un momento all'altro e rovinare tutta allora vado di sopra a nascondermi anche io eh vado vado ho visto prima che è arrivato anche gattino sì sì vai a nasconderti allora manca solo un invitato forza kitty forza nasconditi nasconditi ecco sono di sopra ciao mao ah finalmente sono arrivata ah orso orso sono arrivata ecco qua ho portato una bella torta al cioccolato e panna ah la preferita di masha ah 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 chissà che faccia maracono ci vede a tutti ah non vedo l'ora di vedere la sua espressione per una volta saremo noi a fargliela ah 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 allora nascondo la torta eh poi vado a nascondermi anche io sì sì nascondila dietro la poltrona e vai di sopra ecco qua e adesso mi devo nascondere anche io però ah ah masha starà per arrivare forza orso vieni su anche te oh ecco che è arrivata masha oh che sorpresa che le faranno ah sono arrivata da orso starà sicuramente guardando la tv come al solito se lo conosco un po' mhm orso 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 oh sta arrivando masha sta arrivando masha devo venire di sopra anche io mi devo nascondere mi devo nascondere oh veloce 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 allora è tutto pronto qua dietro la poltrona e adesso arrivo e fatemi spazio fatemi spazio oh sto arrivando masha non devo farmi vedere assolutamente oh ancora ancora qualche gradino ecco ecco che è arrivata masha in casa di orso 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 oh ma che strano non è sulla sua poltrona ma dove sarà andato non è da lui oh non è che gli è successo qualcosa eh oh però mi fa un po' preoccupare è strano lui non esce mai da solo dove sarà andato orso ah voglio proprio vedere allora qui per strada non c'è orso orso no non c'è non c'è non c'è provo a vedere in giardino sì ah magari eh sì sta mangiando il miele ma orso ma dove è andato allora qui non c'è dietro i fiori nemmeno a volte dorme sotto i fiori ma non c'è oh ci picchiamo dove è andato orso non è che l'hanno rapito oh sì qualche delinquente ha rapito il mio amico orso lui non mi lascerebbe mai altrimenti oh no masha sta piangendo non possiamo aspettare ancora molta mia shh non farti sentire oh dobbiamo farle una sorpresa eh sì dobbiamo proprio farle una sorpresa però sto piangendo poverino pensa che mi abbiano rapito oh ma cosa ci fate là sopra oh masha masha ma dove sei masha ti abbiamo voluto fare una bella sorpresa di compleanno tanti auguri guarda qua cosa c'è dietro la poltrona orso allora ragazzi non è successo niente ci sono i miei biscotti preferiti l'abbiamo armallata la torta eh sì ti abbiamo fatto una bella sorpresa di compleanno vero? oh